ora ti elenco quattro buoni motivi per venire nella nostra farmacia primo è che noi abbiamo scelto di fare questo lavoro ci piace fare questo mestiere e ci piace il contatto con le persone numero due noi ascoltiamo e ci prendiamo il tempo di dare un consiglio su misura per i nostri clienti indipendentemente da quanto tempo serva numero tre la nostra priorità è il tuo benessere e la tua salute quattro nel tempo abbiamo messo a punto una serie di servizi pensati per la tua salute e del tuo benessere ed infine io marco elena sarah sergio e laura ti aspettiamo nella tua farmacia con un bel sorriso